2.46 sono tornato a casa, ho mangiato un burrito, tornando, visto che non ho cenato, visto che sono stato al cinema tutto il giorno, stanco morto, visto che domani si va a Lucca Comics, però lo porto adesso il video e non basta con uno short di un minuto per questo long legs che mi ha deluso, mi ha sorpreso, però mi ha deluso. Ora vi spiego il perché, non perché sia un brutto film, anzi, anche se Nick DeLarge, Frank, di Cine Frank, me ne ha parlato, ho visto, recensioni, capolavoro, e qua mi permette di fare un disco sull'horror che faccio da tanti anni, magari qualcuno se l'è perso, lo ridico molto velocemente, fra poco. Sono Arcalina Hammer, sono stanco, e anche perché sono stanco, iscrivetevi, supportatemi, condivisione, abbonamento, mi piace, quello che vi pare, perché il mio sogno è duemila iscritti Enzo a fine anno. Non si riesce, sicuramente no, però, avvicinarci, avvicinarsici, non sarebbe male. Allora, long legs, partendo dalla parte più semplice, va, che poi il discorso è più complicato, di che parla, semplicemente, di che parla? Seven, alla fine è questo, parla dell'FBI a cui viene assegnato, diciamo, la persona a cui viene assegnata il caso, è questa, che si chiamava? Non mi ricordo, raga, fa niente. Questa qui è in assenza del caso, di andare dietro a questo, non mi ricordo i nomi, vabbè, sto assassino, ok? Che uccide le famiglie, lascia una letterina, come Zodiac, con un codice da decifrare. E quindi si deve capire come ha fatto, chi ha fatto, che è coinvolto, a capo c'è questa qui, una ragazza molto timida, non parla mai, un po' disturbata, con a capo un black con famiglia. Questa è, lei vive con la mamma e basta, basta. Ok, detto ciò, no spoiler, è tutto uno spoiler, mi raccomando. Però potrei fare una parte spoiler così per concludere il video, tre minuti. Vabbè, cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto. Cosa mi ha sorpreso e cosa mi ha deluso, secondo le aspettative altissime. Perché questo, visto sto 2024 di merda, potrebbe essere uno dei migliori decifini dell'anno. Perché se andiamo a vedere il lato tecnico, fotografico e registrico, è notevolissimo. Un film meraviglioso da quel punto di vista. Cioè, se a questo film mettessimo il bianco e nero bello, quello, il vero bianco e nero non quello dice, ancora domani è fatto con Wonder Filmora, con il filtro black, che metto ogni tanto come elemento comico nelle mie arca news. Ecco, con un vero bianco e nero fatto con una certa luce, eccetera. Cioè, questo è un perfetto noir degli anni 50. Cioè, proprio fotograficamente bellissimo. L'uso della regia è da noir degli anni 50. Già il noir che sta marcendo, quindi 48-49-50. Ed è bellissimo. È vero, toglie il fiato nella prima parte del film. Perché ho quest'ombra? Sembra che abbia un taglio. Non è un taglio, ragazzi. È un'ombra del cappello. Ed è perfetto, meraviglioso, bellissimo. Stai lì con gli occhioni, se sei un cinefilo, e non solo, ti cattura. Perché funziona tantissimo. Ok? Poi cosa succede? Poi succede che il film ha una storia. Ora, un giallo, nello specifico. E questo è il mio discorso. Seguitemi bene. Io non è che sono... Sì, mi piace il cinema molto, un canale, quindi per forza. Ma la mia vera passione, da bambino, erano i romanzi. No? Ma io sono nato e ho letto grandi romanzi. Poi ho tanti anni, poi ho smesso. Ma la mia ossessione sia nel cinema che per i romanzi si è nata con il giallo. Quindi Christie, Hillary Quinn, Rex Stout, i più recenti, Elizabeth George, eccetera. Io sono ossessionato dal giallo. Perché il giallo è una narrazione che mi permette di essere intrattenente e che permette all'autore di essere anche profondo e filosofico. Perché con i moventi, quelli fatti bene, stile seven per intenderci, tu riesci a dare sia la filosofia che l'intrattenimento. Perché l'autore gioca con te. Cioè, scusate, sono stanco. L'autore gioca con te, spettatore, lettore, e ti dice, guarda, cerca di scoprire con me il giallo, ok? Qual è il problema di sto giallo? Che nell'idea è sofisticato, molto sofisticato, ma nella pratica è banale. Infatti io ho detto al mio amico che aveva a fianco, a 20 minuti dall'inizio, come sarebbe andata? Al 70%. Quindi il grande mistero non è un grande mistero. Questo mi fa incazzare come una iena. perché, non solo perché io sono bravissimo, ossessionato dal giallo, quindi ho il quoziente intellettivo di Einstein, no! Il film scrive un giallo mediocre in favore del grande horror, thriller psicologico. E questo è un problema, perché la regia è da thriller psicologico, ma la storia è un giallo. Cioè non è... Vi spiego. Nella pratica è un horror dalle tinte psicologiche. Ma nella teoria era un giallo dalle tinte horror. Quindi, se fai prevalere la messa in scena sulla scrittura, creando buchi di sceneggiatura evitabilissimi, no? Forzature. Minchiate. E' chiaro che poi io riesco a leggere l'opera anche prima, perché qua si va anche sulla regia. E lo dico dopo, magari. Quindi, una sceneggiatura che non è all'altezza del resto. Anche degli attori sono stati bravissimi, gli attori. Però... ci rimango male. Vi faccio un esempio pratico, poi andiamo in chiusura, che sono stanchissimo. come posso dirvi... facciamo... facciamo, sì, un'auto, un'auto, ok? Io voglio una Ferrari. Non me la posso permettere, faccio una... una macchina che gli assomiglia esteriormente. Quindi la faccio rossa, più o meno della stessa lunghezza, stesse cose. esteriormente è perfetta. Pure gli interni sono uguali. Poi vado a correrci e va a 80 all'ora. Quando la Ferrari va a 200. Sto sparando. E questo è il problema. Io ci rimango male. Che sono un appassionato del giallo e ho capito subito le cose. Quando poi... guardavo e ricevevo le spiegazioni che arrivano, è piuttosto semplice. non c'è niente di metaforico, concettuale, eccetera. Questo. Comunque, consigliato, fin sufficiente, più che sufficiente, ma rimane sul se e mezzo. Nick DeLarge che mette 4 stelle su 5. Capolavoro! Frank, CineFrank, non capisce Arcadi, non capisce. Chiudiamo, parte spoiler, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il problema è uno solo, raga. L'ho capito subito che lei era coinvolta perché la regia insiste troppo sul rapporto con la madre, insiste troppo sul fatto che è fuori dal mondo proprio, non parla mai, non è che è un giallo... E poi il film si apre su di lei, palesemente, quindi ci sta facendo capire che lei è coinvolta nei delitti, non solo come investigatrice. Quindi abbiamo capito che lei è strana, poi ha quella visione, fra virgolette, dove vede l'uomo fuori, ma è palesemente una visione che ha lei, ma perché ce l'ha? Perché è coinvolta nel rito, che io pensavo un rito satanico, in realtà è una cosa molto più semplice e non ha senso, perché se il piano del villain Nicolas Cage è mandare la bambola a casa delle persone per far impazzire gli uomini che sono a capo della casa, perché donne no, non si sa bene perché, e come lo fa questo Nicolas Cage con delle bambole per le bambine dove mette questa non lo so, sferina con dentro il suo horcrux, come ha detto il mio amico, giustamente, ok, ci sta, ma perché coinvolgere quella signora che è la madre della protagonista quando puoi mandarle con un postino? Ma puoi dire, beh, ma perché la suora attira di più, no? fai entrare più facilmente la suora, ma tu mandi un regalo, un gentile regalo come il cavallo di Troia a tutte le persone che vuoi, ci mandi il postino e che manda il regalo e dice, ah, suo figlio ha fatto 12 anni, quello che cazzo è, regalo la bambola, tutta la storia principale va a puttane, ah, sarebbe stato diverso se fosse stata una cosa della serie, per attivare il potere della bambola cioè l'anima del diavolo che entra nella testa poi del padrone di casa, tra virgolette, c'è bisogno di una sacerdotessa che, non lo so, legge un sermone così da attivare il potere, allora la mamma avrebbe senso. Poi durante questa investigazione ci sono dei buchi di trama clamorosi e sul finale succede quel che succede, ah, sono in spoiler, c'è quella scena lì dove lei deve uccidere tutti ma poi non riesce a uccidere la bambola essenzialmente perché ha visto sua madre uccidere l'altra poliziotta e non l'ha portata in centrale. Buco di trama, di nuovo, cioè sono delle cose che rovinano un film molto bello che a livello visivo è straordinario però poi che rimane se tu non stai facendo un thriller psicologico non stai facendo Alan Empire allora mi va bene. Stai facendo un giallo tanto verosimile vabbè però diciamo ho usato la bambola voglio crederci voglio accettare quella regola strana sovrannaturale perché mi guardo pure Supernatural che amo quindi ci sta ci sta però una volta che hai imposto la regola deve rispettarla deve essere affascinante interessante e valere tutta l'attesa cosa che non vale. Un'altra cosa Nicolas Cage muore si uccide come se avesse finito il suo compito e ha dato alla signora la mamma della protagonista un numero limitato di bambole scusa ma come vuoi conquistare il mondo se poi le bambole sono finite cioè il grande piano del diavolo uccidere quanti? 30 20 famiglie no meno scusa 10 8 9 famiglie quindi 40 persone un soldato in guerra ne uccide di più e questo è il piano del diavolo cioè non tutto il discorso di fondo critica all'America lo so lo so però che rimane una trama banale per un film meravigliosamente diretto e fotografato che rimane buono buono